Buonasera, sono qui su un nuovo video, 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 in realtà ragazzi penso di essere il primo e il secondo progresso in questo video, la nuova sfida attraverso i cerchi d'oro con un x4, sono riuscito subito a fare, ora faccio la posizione, vi dico già, una sta a passatempli, una sta sopra la casa diciamo, una sta a rifugio ritirato, una sta sopra la torre, un altro sta vicino a palmetto paradisiaco, dove stanno con le due montagne, con quel, diciamo, quell'archetto, da un altro sono là, e poi l'ultimo, vabbè che ne sono più di una, io mi vado, un attimo, devo mettere, devo andare qua, vado al quartiere, vado qua, l'ultimo sta in mezzo al ponte, palmetto, tra acqua, allora ragazzi, uno sta qua, uno sta qua, aspetta un attimo, mi faccio vedere subito, devo essere il primo a prendere l'aereo, così vi faccio vedere la posizione, spero di farvi riuscire a vedere la posizione di tutti quanti, e un altro tra, tra il ponte, questo qui, questo ponte è qua, vedete, sto qua, aspettato, qua c'è un altro cerchio, quindi, devo prendermi con l'aereo, devo prendermi con l'aereo, ora non ci vuole nessuno, qui ragazzi, qui ragazzi, qui ragazzi, qui ragazzi, prendiamoci, prendiamoci, a posto, ora abbiamo andato come prima cosa, a parte termine, ci faccio vedere più, non ci proviamo, ecco, già lo vediamo, vedete, quello è il primo cerchio, vedete, questo è il primo cerchio, vediamo un attimo, vediamo che si fa con l'aereo, comunque non so cos'è l'aereo, comunque non so cos'è l'aereo, comunque non so cos'è, l'aereo, comunque non so cos'è, l'x4, io spero che sia l'aereo, l'aereo, l'x4, l'x4, no, non lo so cos'è, non c'è capito, ragazzi, è pure cosa cos'è los e' l'aereo, quindi, abbiamo sbagliato tutti, ho sbagliato io, ma non riesco a fare io, non lo so cos'è, lo posso stare, no ecco qua l'altro sta a rifugio ritirato sopra qua minore un attimo il tempo di rifare il rifugio e questo io lo dire qua sta a rifugio la sopra la turba andiamo un attimo ci passiamo siamo già due su cinque ragazzi io ve li faccio vedere questo pure 6 quindi qua già c'è una roba poi da qua dobbiamo andare qua ragazzi bene si qua no no dai perché mi riempire il video no 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 non mi riempire il video non mi riempire il secondo è andato il testo sta da giù c'è un pochino così per me rompe l'aereo no non mi rompe l'aereo no 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 perché mi riempire il video questo bravo sono rovinato il video da tutti quanti voi scusatemi comunque io ve l'ho detto non mi riempire il video quindi se ci rompe l'aereo non ci trovano altri vi farò vedere sulla mappa descrivendovi un punto esatto se comunque spavano di sotto per l'aereo bene è di sotto aereo comunque vi riempire con le posizioni un'altra sta qua poi il quindi sopra il terzo il quarto si trova praticamente tra il punto qua dentro qua in mezzo questa spaccatura qua si trova poi il il quinto si trova allora il quinto si dovrebbe trovare verso questa zona qua non mi ricordo più ah qua qua proprio esattamente tra questi tre alberoni si trova un pochino dopo verso qua e su qua invece se ho già scritto dunque vedo anche questa posizione qua qua c'è un altro tutto all'altro beh spiaccato mi sono scritto che non c'è un like questo video viene di oscilla subito ciao 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 ciao